www.fema.it No, tu senti nuovo? Una volta tanto? No, ma ce l'ha il pettorale? Sì, lo vedi che ce l'ha legato? Ce l'ha legato, quello ce l'ha. Questa è il pettorale, si vede. No, no, ce l'ha, ce l'ha. Questo canto ai bambini non funziona bene. No, non, non, non. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.